buongiorno oggi vi presentiamo quattro vicariati trentino superiore di cavit alla vista quattro vicariati si presenta di un colore rosso rubino carico intenso e vivace al naso il vino regala sensazioni di frutta matura come prugna mora e mirtillo arricchite da profonde sensazioni di tabacco al gusto oltre che un elegante balsamicità si presenta una grande corrispondenza naso bocca data dal lungo affinamento in barrique il vino inoltre risulta essere sapido morbido elegante e avvolgente